La scelta di un template è il primo passo per creare un sito web. Puoi selezionare tra tantissimi modelli realizzati dai nostri designer, pensati per ogni attività. Inserisci una parola chiave nell'apposita barra di ricerca, ad esempio e-commerce, per filtrare i template relativi alla categoria scelta. Seleziona un modello e clicca sull'anteprima. Clicca su Scegli modello e attendi il caricamento automatico. Adesso puoi iniziare a modificare il tuo template inserendo immagini e contenuti. Puoi modificare tutti gli elementi del template o cambiarlo in qualunque momento. Per farlo, clicca sull'icona Gestione sito qui nella barra degli strumenti e vai su Cambia template. Procedi. Scegli se generarlo rapidamente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale oppure selezionane uno tra i modelli realizzati dai nostri esperti. Individua e poi seleziona la categoria più attinente alla tua esigenza. Seleziona un modello e clicca sull'anteprima. Clicca su Scegli modello e attendi il caricamento automatico.